Tutti in coda per il tampone per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Migliaia le persone residenti nella marca che in questi tre giorni da quando è scattata l'ordinanza della regione devono obbligatoriamente sottoporsi al test negli ospedali di Conegliano, Treviso, Castelfranco Veneto e Oderzo dalle 7 alle 13 di tutte le mattine finché sarà necessario. L'intoppo c'è stato solo all'inizio con i centralini presi da salto per le prenotazioni. Poi la ASLA ha deciso che le persone di rientro dalle vacanze potevano presentarsi senza prenotazione. Niente più caos nei centralini anche perché sono state potenziate le linee da 2 a 9. Con il libero ingresso le code ci sono ma le attese sono accettabili e senza intoppi. Come in questo caso nel reparto di malattie infettive del Caffoncello dove la gente attende pazientemente in giardino il proprio turno. Noi siamo arrivati qua alle 11 meno 10, siamo arrivati prima delle signore e sono neanche 35 minuti. Di ritorno da dove signora? Da? Dall'Istria. Dalla Spagna, Barcellona. Come è andato? Tutto bene? Bene, tutto bene. E questa sorpresa è un po' caduta dal cielo, questa sorpresa dei tamponi? Sì, 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 siamo tornati un paio di giorni prima per farlo tranquillo, sì, sì, tutto bene. Siamo in tre. Tornate da dove? Da Barcellona. Ma noi siamo tornati ieri mattina e stamattina come dovere siamo venuti qua a fare la prova. Alla Madonnina invece il test viene effettuato senza scendere dall'auto a tutte le persone che sono venute con certezza a contatto con un positivo. Solo in questo caso è necessaria la prenotazione. Da un'analisi dei tamponi finora analizzati in tutta la marca, i positivi sono sei. Il dato è incoraggiante. Il giorno 15 e il giorno 16 abbiamo fatto 2.241 tamponi. Questa mattina alle ore 10 siamo a 2.878 tamponi. Ad oggi i dati di positivi sono sei. Ci aspettavamo, attendevamo numeri anche più alti. Questo ci tranquillizza sotto l'aspetto della numerosità dei positivi rispetto ai tamponi eseguiti su quelli rientrati dai quattro paesi. Però dobbiamo tenere molto alta l'attenzione, la guardia e soprattutto la responsabilità dei cittadini. Erano in molti ad essere preoccupati per il rientro al lavoro. L'esito degli esami, nonostante la mola di lavoro, si ottiene in tempi stretti. Abbiamo anche attivato la modalità di refertazione online per cui nel giro di 48 ore sicuramente il cittadino ottiene la risposta.